Allora, voi volete sapere perché il Partito Democratico e la maggioranza hanno chiesto di andare in aula con il provvedimento? L'abbiamo chiesto ieri al Presidente Grasso, oggi è stata convocata la Capigruppo. In concomitanza, come sapete, il Senatore Calderoli ha ritirato 550.000 emendamenti. Io consideravo una manovra politica i 550.000 emendamenti e considero una manovra politica il loro ritiro. Così come considero una manovra politica la richiesta di fare un comitato rispetto in prima commissione. Il tema di fondo è questo. L'Italia è l'unico tra i 28 Paesi dell'Unione Europea che ha un bicameralismo perfetto. E fa parte del programma della maggioranza che sostiene il Governo far cessare questa anomalia che consideriamo pesi sul funzionamento delle istituzioni democratiche. Il Parlamento ha già esaminato per due volte il provvedimento. Io penso che fosse ora di farla finita con questo andirivieni di centinaia di migliaia di emendamenti. Non sappiamo cosa succederà in Aula perché ne sono stati minacciati milioni di emendamenti e mi auguro che questo non accada.